Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono XPackard, oggi sono con i ragazzi del PDU, c'è anche Steya a registrare, c'è Diem e siamo qui in realtà in mezzo alla strada perché stiamo andando a fare un'indagine che poi vedrete i vari canali sul mio, sul loro e ovviamente vi lascio tutti i social suoi, soprattutto il canale in descrizione Beh, come minimo Come minimo Ovviamente sono venuti loro a Firenze, ma faremo tantissimi like e vedremo che vi piacerà e andremo noi a Milano e ci porterete penso in qualche posto bellino Nella villa più festata d'Italia raga E che villa dei vecchi Assolutamente Fatto sta che siamo qui a fare un rituale che ci avete chiesto tantissimo e che non abbiamo mai fatto Vorrei precisare che neanche noi l'abbiamo mai fatto, quindi anche per noi sarà la prima volta Anche perché raga se non li conoscete loro fanno indagini, comunque andate poi subito sul canale, vedrete Ci sta guardando male la signora Comunque siamo sul rituale delle 11 miglia Ovviamente questa strada l'abbiamo fatta già all'andata, abbiamo visto che comunque sono parecchie Anche siamo sui sopra Beh, di vedere questa strada sia un po' particolare Anche perché è la strada che porterà alla villa dove andremo a fare tutte le indagini Anche la tavola che vedrete Raga, veramente rimanete sintonizzati La senti? La senti? Il brivido Ah l'ansia pensava Il brivido No no raga Il brivido del sfreddo Io anzi direi anche di muoverci Comunque vi spiego subito in pochissime parole L'ho sentito anche io Ecco muoviamoci raga In poche parole praticamente Ora noi andremo in macchina Questo sa bene Sara Com'era? Andiamo in macchina Accendiamo la macchina Sì, dobbiamo esprimere un desiderio E poi accendere la macchina e partire Eh, le regole sono di non superare i 30 Il mio desiderio raga è che questo video arrivi almeno, almeno a 30.000 like Scherzi a parte, vediamo un po' cosa troveremo lungo la strada Guarda che io lo faccio per te, non è che lo faccio al tuo canale No, no, lo so Però vedremo raga, io so solo che, boh, c'ho un po' l'ansia Perché comunque è una strada raga, ci siamo solo noi in mezzo di strada Quindi è l'ora di iniziare andando su in macchina Adesso superiamo la casa Spegniamo la macchina E la riaccendiamo Perché la strada è bruttissima Ok Eccoci qua Ci siamo Dobbiamo esprimere il desiderio Esprimiamo il desiderio Ok È fatto, no? Minchia Ora devi andare Devo mettere In miglia Esatto Poi vedete, Sara In car E devi andare Non superare 30 miglia Unità di misura Velocità In miglia Bene raga Qua siamo in miglia Potete vedere Non devo superare le 30 miglia? Esatto Ok Ovviamente qualsiasi cosa succede In teoria raga abbiamo anche Cioè in realtà I ragazzi IPDU hanno anche la GoPro Abbiamo messo qui davanti E voi starete vedendo la strada Speriamo Che si stia vedendo In realtà casomai c'è anche la videocamera di Sara Come vedete la strada è praticamente Raga Ci siamo solo noi Da quando stiamo registrando Forse è passata solo la macchina Quindi E uno in bici Esatto È vero E ci ha guardato malissimo Sì 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 Di notte in bici E qui praticamente raga Comincia il rituale Delle 11 miglia Mamma mia Siete sicuri che Non devo stare sulle 30 miglia? Sì devi stare No Cioè sotto Sotto Non devi superare le 30 miglia No no Infatti stai già sbagliando No no va bene Non ho superato le 30 miglia Però raga è tutto ok E quindi noi teoricamente Non ci dobbiamo fermare Ma cosa è stato questo suono? Non lo so L'ho sentito anch'io Vero? Sì Ma è stata la macchina? Non lo so Io sentivo all'interno della macchina È difficilissimo comunque È perché siamo anche in discesa Per me stai andando molto più veloce Sennò è pure Che altro anche per controllare bene la strada? Io ripeto raga Merda c'era sto coso Mi ha fatto paura Madonna Ma cos'è? Ma è tipo un clown È un simbolo No è un simbolo giallo Ma ti Raga vicino È un simbolo Ma io spero si sia visto dalla videocamera A me sembrava un clown Tipo Mi hai fatto aprire un colpo Ma che cos'era? C'è un cartello di legno Con un simbolo Tipo fatto col gesso Madonna Madonna Ma una cosa non mi piace Che per fatto che siamo in discesa La macchina sta andando A delle velocità diverse Cos'è stare con una casa? Piano piano Ma io posso dirvi una cosa? Io sento la macchina che spinge da sola È Bravo Sì? Cioè spinge proprio da sola? Cioè praticamente è come se Non volesse praticamente fermarsi? Bravo Esatto Vuole andare più veloce? Sì esatto Come per dire Muoviamoci praticamente Raga guardate la strada intanto Io spero che dalla videocamera E dalla GoPro Si stia Vedendo ma Madonna mia Non ho visto la strada per un Sì ma è strana sta strada Cioè raga Non c'è nessuno Non c'è niente più che nessuno Mamma mia Raga cos'è sta puzza? È vero Ma sentite Roma Che Raga Che puzza è? Madonna No 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 Sì 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 No no Ma guardate Io mi so Ma raga Ma sentite? Ma state sentendo che roba? Ma che schifo No Raga ma non è che non quello di voi Ammordate No 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 Te lo giuro Io mi sto cagando addosso Ma non sono Che è il studio di marcio? Madonna Raga pesantissimo Porca Ma se lo abbiamo Aspetta scusa Non puoi aprire È vero È vero Non aprire i finestrini cazzo Non è che l'ha fatto apposta? Cioè è stato fatto apposta Io stavo aprendo Raga vi giuro che non Raga io sto morendo Ve lo dico No no Se è stato qualcuno Tanto non c'è da vergognarsi Basta lo dica Perché mi sto cagando addosso Ma nevelo senza la parola È senso È stato qualcuno? No No Mio dio Ma guarda che assurdo Vado sempre peggio Ma non è che la macchina Vero? Ma l'aria condizionata Ce l'ha accesa? No non è accesa Ma che cos'è sta roba? Quindi non entra manco L'aria da fuori in teoria Ragazzi sapete cos'è La cosa strana? È che non c'è neanche Il riciclo d'aria Cioè non è che stiamo Stiamo aspirando Aria da fuori Eh allora è quello che ti dico io È da fuori che viene Allora meno male che non si può aprire Stiamo aspirando aria da fuori Vedi che non c'è Il riciclo? Mamma mia Sbaglio O tipo Cioè raga Più passa la strada E più Non lo so A parte la puzza Continua ad essere Adesso un po' sta svanendo Ma raga Sì 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 Ma pesante Di marciume proprio Sì ma la strada comunque Qui c'è Ed è fatta apposta Secondo me Esatto Hai detto proprio la cosa giusta Ma meno male mi avete fermato voi Sì lui andava convinto Sì io non lo sapevo Cioè neanche l'ho detto Prima all'intro Raga Io lo sto avendo veramente Cioè qui c'è una casa Una sola casa Madonna Io veramente Vorrei proprio vedere se Cioè adesso come fai Se perché sei entrato nel gioco Cioè per L'odore Se succede qualcosa Cioè magari Cioè l'odore lo possiamo Sì io lo monterei come Perché è vero Io ve lo giuro non ho fatto niente Cioè No vabbè sì ok No nel senso no Non è una posta No no è vero è vero è vero Io raga vi dico solo Una volta che ho sentito sta puzza Era sempre albanti E tipo Carcasse e roba così Bravo Bravissimo Mamma mia che schifo L'odore proprio di decomposizione Sì 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 Boh Sarà stato un caso Raga qui la strada comincia a essere proprio Brutta Cioè qua Vai piano Vai piano perché Non si vede nulla No Io spero di aver imbraccato la strada giusta Raga Ma infatti Allora Di sicuro siamo Più che altro Se ci fai caso Abbiamo fatto un giro così circolare Sì sì Ovviamente siamo scesi Quindi non può essere Dove eravamo prima Cos'era? Di qui? Sì 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 L'ho visto anch'io Anche io L'ho visto anch'io No 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 Io ho visto In ombra nera Sì sì Oh No 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 raga Ma se non ti puoi fermare No che non mi posso fermare Oh perché? Non sono disponibili Non sono disponibili Ma adesso non si vede più Niente Penso che siamo Mezz'ora Dai per vedere Secondo te Cos'era quella roba? Non lo so Io sentivo Un verso Guarda caso Proprio quando nel momento No abbiamo visto Quell'ombra Ma cos'era tipo Raga un'ombra nera Ma sì Un'ombra nera Ma tra i paletti qua L'ho vista Perché L'ho vista Perché vedi che ho acceso Gli ingombranti Vedi questi qua Vedi mo Fai vedere fuori Vedi che ho acceso Apposta gli ingombranti qua Cazzo raga Sei la strega Oh in tutto ciò raga Siamo praticamente Cos'è stato? Lamentarti Tipo Cioè Sì sì Qualcuno lamentarsi Però Una voce roca Diciamo Oh comunque Facci caso Più ci stiamo avvicinando Alla villa E più stanno succedendo Cose strane Raga Io non so C'è più Alla fine Sarà un rituale Sarà rituale O è tutto collegato Alla villa Tu ci dicevi C'è una leggenda Che racconta Che le macchine Sì esatto C'è questa Raga potete vedere Anche su youtube C'è questa leggenda Che praticamente Stiamo avvicinandoci Alla villa di pomarance E Molte volte Molte macchine Sono rimaste Praticamente bloccate Per Non lo so Usare i pneumatici Alcuni Hanno avuto Malfunzionamento Al motore Ma Un botto Di leggende E quindi Molte persone Non sono riuscite Più a tornare Una volta Sono lì Cioè rimangono Qui fermi In mezzo alla strada Comunque Non mi posso fermare Non mi posso fermare Non mi posso fermare L'ho visto L'ho visto anch'io C'era l'hai ripreso No Cioè non lo so Cazzo L'ho visto anch'io Con i fari Cioè Raga ci sono questi I fari che sto di qua No È la stessa sensazione Ho avuto prima Quando hai visto quell'ombra Ma è come se ci fosse qualcuno Ve lo giuro No io non capisco Se sta funzionando O è il fatto Che ci stiamo Avvicinando alla villa Secondo me Secondo me Allora Secondo me L'undicimiglia Può essere un mezzo Io raga non so se credere a questo rituale Però è tutto un caso Tutto ciò C'è la puzza Cos'è sta roba Sono piante Ok Sì C'è la puzza Le ombre stiamo vedendo Stica Cioè Stica Come sai Raga Ma è ritornata Raga È ritornata ancora Infatti Mi giuro No senti è ritornata Madonna Ma è più di prima Non respiro No ma È anche da fuori Senti là Ma questa qua È da fuori Viene o no È da fuori Non c'è riciclo Madonna Non c'è riciclo Vedi Sennò sarebbe acceso questo No Scusa Oh ma se ce ne fottiamo del rituale Apriamo sti finestrini Io non ce la sto facendo più raga Eh Ti fanno male un mal di testa Madonna Anch'io Cioè Ho vomito Mamma mia Assurdo Io raga Davvero Non ve lo so Non ve lo so spiegare Ma è come se C'è la sfissata Non lo so Mamma mia È inspiegabile sta puzza Io sono solo il conducente Non c'entro niente Ve lo dico Spiriti Secondo me Ti ripeto Non è tutto un caso È il fatto che stiamo andando Raga Ho visto un bagliore Che cos'è? È vero Cosa? Ho visto un bagliore Sul Ma tipo Dove c'è l'albero Sulla destra? Te lo giuro Te lo giuro è vero Oh raga ve lo giuro C'era un bagliore Forse l'hai ripreso Magari con l'agopro Ma Cos'è lì? Cos'è? Non lo so Ma che cavolo L'ho illuminato Per terra? È vero è vero Scusa Oh è vero è vero Che cos'è? Guarda Cos'è? Ma che No ragazzi Cos'è? Ma che cavolo? Oddio Sì tipo l'albero Sì tipo l'albero Se fosse morto qualcuno Lì in mezzo E quella sai cosa? Che era quello Il bagliore tipo Che Comunque secondo me Abbiamo superato Le 11 miglia raga Cioè ora ovviamente Noi avremmo anche tagliato Raga però Non possiamo portarvi Per 22 chilometri Quanti sono Lì è una luce Guarda un bagliore Laggiù in fondo Guarda Dritto E c'è anche una luce Vedi è illuminata la strada Mi sa Forse stiamo uscendo Raga ma se smettiamo Sto rituale Cioè comincia Ad aver paura davvero Adesso Quanti l'albero abbiamo fatto raga Siamo a 20 minuti E passa di registrazione Cos'è laggiù Fabio? Questa cazzo è laggiù Raga Non sta andando più la macchina Che dici? Non sta andando più la macchina No 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 Qui non ci possiamo fermare Non sta andando più la macchina No 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 Che dici? Non sta andando più la macchina Sarà l'interno? Oh No 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 raga raga Non sta andando più la macchina Oh no raga Guardate laggiù raga C'è una luce Raga Raga c'è una luce laggiù Scusate 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 Che cosa fai? Scusate un attimo Scusate un secondo Sono rimaste bloccate le chiavi anche No eh No 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 che dici? Sono rimaste bloccate No raga Oh Hai ripreso? Ve lo giuro è passato qualcosa davanti alla luce No sono serio Hai passato come se qualcuno avesse attraversa Guardate ora vediamo solo l'ora fa Ve lo giuro qualcuno ha attraversato la luce Ma cos'è poi quella luce? Raga Qualcuno è come se Dai cazzo Dai cazzo Dai ti prego No 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 Non si vede manco la luce Ok Fa Ragazzi si è appannato tutto No Cosa sono sti segni secondo voi? Vabbè è normale penso no? No 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 Si è appannato tutto Raga guardate si vede anche benissimo da qui Raga eh Io non sto vedendo niente No vai piano vai piano Allora tanto già ci siamo fermati Ma il rituale è finito in teoria? Scusate raga Eh Tanto già ci siamo fermati quindi se è successo qualcosa Sì 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 No ti prego parti Fabio non ce la faccio più Raga Aspettate un attimo No 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 non ce la faccio Dai io ho l'ansia davvero Aspettate un secondo Allora Tanto ormai Ha ragione Sara Ti prego torna indietro Ha ragione Sara Tanto ormai ci siamo fermati Ma non ce la faccio Non si vede niente Fabio Dobbiamo spannare per forse l'interno Ma infatti dobbiamo tornare indietro raga Siamo in mezzo al niente Giallo No davvero Siamo in mezzo nel bosco Ho visto una roba Tanto ormai ci siamo fermati No no basta Ma che cosa vuoi fare? No no qui non ce la faccio Scendiamo un attimo No come si fa a chiudere? No 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 di Fabio ti prego Scendiamo un attimo Ma se c'è qualcuno qua in mezzo Stai riuscendo eh Sei impazzito? Se vuoi ti do un pazzoletto Spannere il vetro Scusate raga Vado a controllare io Cioè No 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 ti prego Si è che ti recupera Datemi C'è qualcuno È partita l'aria Perché è partita l'aria? Non lo so Da sola? È partita l'aria Io non voglio portare fuori Scusate raga Cioè Uso il telefono Mi faccio creare un altro Ma che puzza Ma che puzza Ma che era l'intera tutta ora No Fabio Fabio Raga Che è successo Raga No no raga Raga Venite a vedere Guardate Aspetta Guarda Guarda Oh mio zio no Raga Raga Guardate Guarda Guarda Raga Porca miseria Guarda Pronta Ma è tipo un piede È un piede No è una mano È una mano Ma non capisco Raga in tutto ciò Siamo scesi qui in mezzo a niente Siamo in mezzo a nulla Cos'è? Ma c'è un boss È come se qualcosa Avesse toccato tipo in corsa Ma questa non è una mano umana raga Ma che cazzo di mano è? No 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 Cioè è come se qualcosa Raga È come se qualcosa L'avesse toccata in corsa Guarda È come se qualcosa L'avesse toccata Bravo È tipo No raga Ma ragazzi Ma che puzza c'è? Oh entriamo Andiamo davvero Che io parlo Ma sono qui Raga io ho sentito parlare di lì Eh No Oh beh No no Ma donna Raga io non lo so a questo punto se Cioè Ma fatemi vedere se ci sono altre cose Io entro No 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 ragazzi Cioè guarda che questa mano è incredibile Ma non è umana No no infatti Cioè che ma Ma vedi che Cioè è come se Ha toccato ma in movimento la macchina E si è Bravo Si è appoggiato Ma sono lì? Sì Cioè vedi che ha le strisciate Oh raga Raga fate luce qua scusate Raga Raga fate Oh Via 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 No 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 Andiamo andiamo raga Io ho visto Andiamo andiamo Dai Fabio basta questo rituale Porca Io mi sto cagando addosso Raga ok Via Via Ho visto più volte qualcosa di più Nel bosco Cazzo Oh ma cos'è quella cosa bianca Raga guardate L'ho vista prima L'hai vista? Sì No no raga Bassa Ok lo so No io no 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 raga vabbè Io per ora vi saluto raga Vi lascio negli prossimi appuntamenti sul canale dei ragazzi IPDU Sul mio faremo altri tantissimi video raga Ma questo vi giuro che Io È certo che non ti ascolterò mai più No allora Perché tu sei No tu sei fuori di testa Io non me l'aspettavo Da quante raga che mi scrivete di fare sto cavolo di rituale Beh sì anche a noi Ho sempre pensato fosse così una cavolata Loro sono fuori di testa Che ci fanno fare queste cose Raga siete fuori di testa Ma io non pensavo dai Io pensavo fosse tutto Sì 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 raga Secondo me può centrare qualcosa quella cosa che abbiamo visto La storia della villa La villa e la lapide Perché dicono Poi ditemi nei commenti cosa può essere quella mano Perché io non ho mai visto un'impronta così diciamo È assurdo Non è una mano Era enorme Cioè era enorme Poi ci faccio vedere che sono pulite le mani Sì sì ma anche le mie Ma poi le dita raga Non sono così lunghe Cioè quelle mie era Enormi Raga dai vi lascio Tutto e tutti i social in descrizione Continuate veramente a supportare tutti questi video che usciranno Perché ne usciranno tantissimi sul loro e sul nostro canale Qui da Xpacard e dai ragazzi Nel PDU è tutto E noi ci vediamo al prossimo video E noi ci vediamo al prossimo video